In occasione dell'apertura del Cash & Carry di Bologna, incontriamo Alvise Serigaglia responsabile di QNAP in Italia, qui chiediamo qual è la partnership e come evolve la partnership con ComputerGross. Sì, siamo molto soddisfatti del rapporto che si è instaurato diciamo di recente con ComputerGross, siamo partiti a fine anno quindi diciamo siamo ancora in start up ma lo staff di ComputerGross sicuramente sta lavorando bene, i cash si stanno muovendo bene e l'apertura anche qui su Bologna è sicuramente importante. Arrivate da un 2015 brillante, visto i risultati appena pubblicati, qual è il trend dei primi tre mesi e l'anno e cosa prevedete di fare nei prossimi mesi? Certo, arriviamo da un 2015 positivo, abbiamo chiuso con grassi soddisfazioni, quindi lato vendite e sicuramente anche i primi mesi ci hanno impegnato positivamente in termini di revenue, di soddisfazione da parte dei clienti. Ci stiamo muovendo anche in ambito SMB, sicuramente che è core business ma anche small enterprise e quindi in maggio ci sarà il lancio di questa nuova linea enterprise che sarà un piacere presentarvi. Cosa vi può offrire la partnership con ComputerGross nel mondo dell'enterprise? Ma la loro competenza, le loro esperienze, il loro know-how sicuramente ci sarà d'aiuto per crescere in questa nuova avventura del mondo SMB e small enterprise.